Molto difficile da conciliare e che però ci dicono qualche cosa. Con il tema L'amore al tempo dell'odio, dal 21 al 25 giugno prossimi, si terrafano la quinta edizione di Passaggi, festival della saggistica organizzato dall'associazione Passaggi Cultura e da Librerie Coppo, con il patrocino del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, del MIUR e del Centro per il Libro e la Lettura. Nella Sala della Concordia in Comune, l'associazione Amici di Passaggi, che supporterà il festival durante le giornate e per l'intero periodo organizzativo, ha presentato il primo evento legato alla manifestazione. Dal Libro dell'Esodo, un reportage fotografico a cura di Luigi Ottani e Roberta Biagiarelli, a firma di Paolo Rumiz e Cecil Chiengi. Tratta di un tema molto rilevante. Il taglio ci è piaciuto molto perché racconta dell'esodo di persone che scappano dalla guerra e cercano di vivere dignitosamente in pace nel nostro continente. Quindi l'impatto che queste persone hanno avuto con l'Europa, passando non dal mare ma dalla rotta dei Balcani. Il libro, il progetto letterario, è un linguaggio internazionale, un linguaggio che riesce ad arrivare al cuore delle persone andando al di là di quelle che sono anche le contraposizioni politiche. Ho accettato subito, dando voce, dando un po' della mia esperienza a quello che è un grandissimo progetto di lungimiranza, come gestire bene i fenomeni migratori. Un'esperienza diretta sulla rotta dei migranti per vedere con i propri occhi ciò che accade ogni giorno e raccontarlo con coraggio. Il coraggio che appartiene a quegli esseri umani che cercano di raggiungere l'Europa per scappare dalla distruzione che li circonda, forzando i cordoni di sicurezza alle frontiere, attraversando i muri di filo spinato e i bastoni della polizia, in un viaggio lungo i binari delle più vicine stazioni ferroviarie. Un viaggio di dolore, speranza e lotta alla sopravvivenza. Io e il fotoreporter Luigi Ottani abbiamo camminato per una settimana sui binari insieme ai profughi principalmente provenienti dalla Siria e abbiamo raccolto le loro storie. Luigi Ottani ha fatto molte fotografie, siamo tornati in Italia con il desiderio di voler fare tesoro di questa esperienza che ci ha catapultato dentro un mondo e ce l'ha fatto conoscere più da vicino, lontano dallo stereotipo e dal cliché con cui se ne parla. Grazie. Grazie.